Buongiorno ragazzi, benvenuti in un'altra puntata di Rimetta a Posto la Candela Allora, adesso vi dico a che punto sono qua, prima il motore Ho, primo, ho perso lo scontino del brico Quindi, questo tubo, i castri, il perno, me li posso infilare da qualche parte Li terrò qua e vabbè, li riadatterò, li userò per qualche altro progetto Come al solito, usando roba che non c'entra niente per fare altro Ho ordinato quello giusto e ho ordinato tutto da capo Nel senso, ho ordinato sia l'avvolgibile Perché quello apposta per quel motore non ha solo un diametro più spesso Ma è anche più spesso proprio di metallo, è proprio rinforzato E di conseguenza anche tutto Tutti gli incastri, tutti, scusate, i fissaggi Sia quello con il cuscinetto a sfera che l'altro Che il perno, è tutto iper rinforzato per sopportare il peso Anche perché da solo il motore pesa 5,7 kg Solo il motore Aggiungeteci l'avvolgibile, aggiungeteci tutto il resto Il peso che deve tenere la staffa è tanto E le staffe ho preso quelle regolabili, micro regolabili Quelle con i due bulloni, così almeno posso mettere tutto in bolla Ho ordinato tutto dallo stesso sito a cui ho ordinato il motore Che se fossi stato un po' più sveglio avrei risparmiato una doppia spedizione Non ho idea quando arrivi Allora il motore ci ha messo un giorno lavorativo Cioè è arrivato ieri ma l'ho ordinato l'altro ieri Io ho ordinato oggi questa roba Non penso arrivi domani Per il semplice motivo che il tubo va tagliato apposta Quindi non penso facerlo così E poi perché domani, spero non arrivi domani nel pomeriggio Perché domani nel pomeriggio non ci sono Quindi potrebbe essere un problema Va via, va di conseguenza che i tempi si allunghino un po' Si allunghino un po' vuol dire che difficilmente finirò completato Portato a termine con la movimentazione automatica Questo lavoro per l'otto Perché ho vari appuntamenti E qualche giorno non ci sarò Poi il 9 e il 10 non ci sono proprio Quindi probabilmente lo riprenderemo l'11 Però non importa Comunque farò tutto a step Quello che manca ancora, oltre a finire la parete Che è quello di cui ci occuperemo oggi Per fare i fissaggi e lo scorrimento con le guide Chiamatele come volete Guide, fermi In modo tale che si possa movimentare a mano Per fare la prova E se poi si movimenta a mano e tutto su Mi basterà in teoria agganciare il motore Un altro problema che ho È che non ho trovato le pulegge Quelle che ci sono sui rulli Per avvolgere il nastro della tapparella Per intenderci Con il foro interno da 70 Com'è il mio avvolgibile Perché l'avvolgibile da 70 Non è pensato per delle tapparelle a mano Quindi non trovo quelle pulegge lì Quindi dovrò capire come far sì che il cavo Dicevo Il cavo o la cinghia Si avvolgano in maniera decente sul motore Quindi tutte su se stesse Non creando un casino Che poi va a modificare le forze Probabilmente devo costruire qualcosa ad hoc Altra occasione In cui la stampa 3D sarebbe stata davvero utile Perché facevo una flangia a destra Della cinghia Una flangia a sinistra Con dentro il foro Ottagonale Le mettevo sul rullo E andava così Sulla stampa 3D Non so che dire Avevo quasi incastrato Con un'azienda Che mi avrebbe fornito Una stampante 3D Sembravano entusiasti Abbiamo continuato il discorso Io ho risposto via messaggi privati Loro erano entusiasti Poi puff Nel nulla Vedremo però È successo ieri Vediamo come si evolve Le aziende non hanno i miei tempi di risposta Con i messaggi con voi Sono un po' più lunghe Vediamo come si evolve Se no c'è sempre Per tutto il resto c'è Mastercam Altra cosa che fatico a trovare C'è fatico a trovare per estetica Di quello che voglio È Il candelabro Vede proprio Dove mettere la candela Però Quello ci pensiamo un po' più avanti Bisogna prima fare tutti i collegamenti Cioè ne ho trovato uno bellissimo Che è perfetto Ma costa 86 euro Non spenderò 86 euro Per fare sta stronzata Di alzi la candela Non esiste Il soft start invece l'ho trovato Ho già guardato anche i video Come installarlo Ne avrò bisogno due Perché sali Scendi O comunque Devo valutare Perché non ho ancora Capito bene come funziona Ma mi riservo di comprarlo Solo se effettivamente servirà Quindi a motore installato Tanto va installato A valle dell'alimentazione Ma a monte del motore Quindi si può installare anche dopo Ma andiamo per gradi Allora Obiettivo di oggi Finire la parete Cioè proprio la parete Non il sale e scendi La parete Quindi Ho già ridominato Quello che ho sbagliato ieri Lascerò i domini sotto Non li tappero Facciamo che io non abbia sbagliato Ho semplicemente trovato Un metodo alternativo Per alleggerire il peso Ancora della parete Tanto saranno contro il muro E poi studiare Le fasce orizzontali Con l'incastro Per il coperchio della cassetta Non ho fatto nessun disegno Perché le voglio studiare in opera Cioè voglio guardare Come sono Come stanno Perché a un certo punto Le misure del disegno vanno bene Poi Tra le scatolette Quello che io ho fatto Il disegno Cioè le misure Tanto vale prenderle direttamente in opera Plus Se mi avanza tempo Compeso il fatto che Tutti i rompicoglioni Che vengono qua A chiacchierare E basta Se mi avanza tempo Iniziare a studiare Il sistema Delle guide O comunque Il contenimento della parete Che non la faccia cadere in avanti E che la in stradi Verso l'alto Verso il basso Ripeto Questa cosa Va affrontata Che se si movimenta a mano E funziona Tirandolo su e giù Si movimenta anche in automatico Perché praticamente Il motore Sostituisce Semplicemente Le mie braccine sifilitiche Quindi Cercherò di farla funzionare a mano Quando tutto funziona a mano Pensano al motore Così divido La cosa in sezioni Ho già un'idea Su come fa a scorrere Quella roba lì Contenerne il movimento per così Contenerne lo sbacchettamento per così E se riesco Andrò già a prendere il materiale E soprattutto ridurre l'attrito Che è la cosa più importante Non fare come le tapparelle Non userò un binario a C Anche perché Mettere un binario a C a parete Mettere un binario a C a parete Come quello delle tapparelle Per me vuol dire Infinare il parello dall'alto E in caso di qualsiasi Manutenzione Devo risfilare il parello dall'alto Una cosa che non sono disposto a fare E soprattutto Le tapparelle si muovono All'interno del binario Per attrito Il binario è di lamiera La tapparella è di plastica E scorre Qui invece Le cose funzionano diverse Anche perché io non ho Una parete piatta Perché ho le fasce verdi Orizzontali Ultima cosa E poi la finiamo con le chiacchiere Stamattina ho fatto la prova A posizionare Quello Sulla parete Farlo sporgere in alto Di 60 cm Quindi più o meno Due cassette E il problema Dello sbacchettamento Sembra decisamente Semente contenuto E' vero che manca Il peso delle cassette Però io metterò Quello più leggero E' vero che manca Il peso dei traversi Però per 60 cm In aggetto Considerandolo bloccato Io non l'ho neanche Bloccato in alto L'ho bloccato solo in basso Non sbacchetta così tanto Quindi sono già Molto più tranquillo Ora Incomincio subito Con l'incollare questo Così sta un po' In incollaggio E poi possiamo vedere Le fasce orizzontali Incomincio subito No non da questo Ma incomincerà un caffè Poi subito Si monta Questo affare qua Dai che oggi vediamo La parete cinese O il quadro svedese Che poi sono andato a vedere Il quadro svedese Il quadro svedese è quadrato Quella roba non è quadrato Come cazzo viene il quadro svedese? Il quadro svedese è quadrato Allora questa è praticamente incollata, è anche già pronta, non è proprio, sono passate 24 ore ma i 30 minuti della colla della Taibo 3 sono andati. Ora dovrei squadrarla, cioè io mi sono lasciato un po' abbondante qua a destra e a sinistra, sopra è da rifilare e sotto ce la va fuori quelle punte. Però siccome è bella grandina e pomeriggio viene qua Gianluca, magari mi faccio dare una mano da lui. Nel frattempo direi che se anche non all'altezza giusta posso toglierla da lì, metterla su qua e iniziare a studiare come fare l'incastro. Mi sono fatto un pezzo di simulazione fatto male che se dovesse andare bene mi farà anche da guida, mi farà anche da guida per la fresa copiare. Poi capire come sfilare quelli e come ripetere questo per n cosi lo vedo dopo. In tanti mi state chiedendo perché non utilizzo semplicemente una placchetta metallica per fare l'incastro. Non uso una placchetta metallica, primo sarebbe veramente poco ficcante. Poi questo pezzo qua ha tre compiti. Il primo è agganciare dall'alto, sul fondo, agganciare dall'alto il coperchio. Il secondo, sempre sul fondo ma ve lo faccio vedere davanti, è dare l'appoggio alla parte davanti, per questo deve avere un'altezza ben precisa. E il terzo, essendo praticamente lungo tutta la parete, è dare solidità al tutto, cioè dare più solidità dove ci sono i giunti. Quindi questi qua tutti lunghi, tutti lunghi vanno così, adesso la lunghezza non c'è. Io sto cercando di calcolare una misura per cui tanto sporga da una parte, tanto sia giusto dall'altra per dare l'appoggio. Però prima di verificarlo devo tirare questo in verticale e magari agganciarlo lì con due clamp. Per chi invece mi ha chiesto se ho intenzione di domotizzare il motore, no, non penso. L'ho già detto, rimetta a posto la candela. Qual è l'obiettivo? Bah! Mi sa che sono riuscito al primo colpo. Questa è fissata come se fosse questo, ovviamente è tutto provvisorio, ovvio. Però qua appoggia, qua si incastra, lascia un po' di margine per il movimento. Però c'è, si riesce. Il pezzettino di legno che vedete lì rappresenta lo spessore che devo dare perché vi ho detto che non è sullo stesso livello. Però è tutto abbastanza semplice. Ho fatto tutto un po' più lasso rispetto alle prime prove che avevo fatto qua a banco, perché ovviamente la prima prova serve per farla misurata, poi si va a registro. E direi che, allora, non c'è pericolo che anche con gli scossoni questa roba venga giù, più o meno. Però ne ho dati veramente tanti. Però l'incastro a mano è veramente semplicissimo. Tutto sta in bolla e tutto dovrebbe, una volta completo, considerate che non è l'altezza giusta, quelli vanno arrancati, dar l'idea di sospensione. Ok, facendo una prova più accurata, immaginando un'estensione di questo genere, che è la massima perché poi si incastra, ma salire e uscendere e ricevere uno scossone così, con un'escursione di, sembrerebbero, 3 centimetri, è veramente roba rara. Soprattutto bisogna inclinarlo e tirarlo in avanti per toglierlo. Quindi, secondo me, anche senza soft start, il motore non darà problemi alle cassette di tenuta. Il soft start potrebbe essere un plus per avere un'apertura morbida, più bella da vedere. C'è però un cavez, come si dice in programmazione, una robina, che è questa. Non posso mettere dietro il fondo, perché queste ovviamente sporgono più del fondo. Poco male, non mi interessa, perché la poca polvere che poi, ripeto, lì non è una zona di lavorazione. Quindi, di qua può anche rimanere senza fondo, che passa un po' di luce di qua e di là, e anzi non mi dispiace. Se no, attacco il fondo staccato. Ho appena detto una cazzata. Il fondo non posso metterlo, ma la separazione che c'è non farà passare la luce. Dimentico che di là c'è un mobile, un mobile che non è grande come il foro, ma è più largo. Un mobile che si aprirà a battuta. Quindi non passa proprio niente, non passa nessuna polvere. Anche perché l'altro mobile arriverà a terra, quindi questa arriva a terra, quindi non passa niente. Sopra, invece, adesso nella prova è aderente al muro, poi non lo sarà. Una volta messo sulle guide, guide su cui dopo facciamo un discorso, perché continuate a suggerirmi roba, e secondo me complicate a dismisura la questione, l'unica cosa che mi rompe veramente tanto, ma non posso farci niente, è che le fughe della Boiserie non hanno niente a che vedere con quelle davanti. Però è proprio andare a cercare il pelo nell'uovo. Certo, non fosse tutto frutto di un riadattamento dal vecchio lab, quello nuovo, lì avrei previsto questa cosa. Qua non si può. Ora, il lavoro da fare è una vera e propria pigna. Il lavoro da fare è una pigna perché io devo tagliare le strisce orizzontali. E vabbè, quello lì si taglia dal pannello e poco male, non c'è problema. E anche sul taglio facciamo un discorso. Poi devo fresare con la fresa a copiare le quattro forme così, dove c'è la striscia. Per tutte queste, tranne l'ultima che non è fresata così, e la prima che ha una misura diversa. Ovviamente lì non verrà l'angolo, verrà rotondato, ma meglio ancora, perché sta ancora meglio, secondo me. Poi aggiungere dietro il pezzettino che sporge, quella linguetta lì, uno spessore da 2 mm, anzi da 3 mm, che è la boiserie. Incollarlo e poi rifresare con la fresa a copiare via quello spessorino lì. Questo per far sì che tutto stia in bolla. La questione degli orizzontali a tagliare cos'è? Se io usassi l'avanzo del pannello che ho, avrei le venature nell'altro senso. Quindi, allora, è la somma che fa il totale. Quindi, dato che sempre un pannello ci vuole per fare questo lavoro qua, non uso l'avanzo dell'altro, ma uso quello nuovo, che mi serviva per un altro lavoro, ma ci sto con le misure, e le ritaglio nel senso che la venatura è giusta. Anche perché, ragazzi, a guardarla così, questa parete, una volta aggiunto gli orizzontali, è molto più bella se non presenta nessuna vite. Se non presenta niente. Quindi, o le viti da dietro, e posso concedermele perché tanto dietro non si vedrà mai tutto, oppure colla, spine di legno o qualcosa del genere. Sono propenso per le viti e colla, che terrebbero di più, da dietro, vedendo che non mi incasini poi con le guide. Perché per le guide è un'idea ben precisa. Guide e tutta un'altra serie di accortezze. Mi state suggerendo un sacco di cose per le guide e tutte le immaginate incassate nel muro, come se io dovessi fresare il muro e usare la boiserie per tenerle ferme. Peccato che la boiserie 4 mm non è a sostegno e non freserei mai il cartongesso in verticale per 2,50 m. Non esiste. Quindi direi che si può procedere questo lavoro. Tra un po' arriva Gianluca, vi faccio dare magari come... Non so cosa ne pensate voi, ma io sono proprio contento di aver scelto questa strada più lunga rispetto a quella di mettere solamente i gancini. È vero che una volta che sono sulle cassette non si vede niente, perché non cambia niente dall'altra, tranne quando le togli, che rimane quel disegno di molto più bello che un gancio, ed è stato più sfidante. E sembra che funzioni, perché adesso se anche muovo la cassetta, l'unica cosa che sembra muoversi è appunto il supporto. Quindi i problemi strutturali inizio a smarcarli via, inizio a vederne pochi. Porca puttana per un pelopolo per terra. E che maledetto capra. E comunque mi piace, mi piace molto, sta venendo bene. È di grande impatto. Sto anche pensando a un'ulteriore modifica, sinceramente. Però la vediamo poi, la vediamo dopo. Niente, uno ti manda un messaggio, 12 minuti e sono lì, e te lo manda 20 minuti fa. Aspetto. Aspetto così, oltre che a venire a rompere le balle, mi dà anche una mano a tagliare gli stelli per il pannello. Così non divento scemo come ieri col pannello. Aspetto. Aspettiamo tutti assieme. Allora, ha perso un sacco di tempo. Non per colpa di Gianluca a sto giro. Ha fatto una quantità di telefonate assurde. È proprio vero che due cervelli, due mezzi cervelli non fanno un intero. Stavamo facendo una cazzata fotonica. Stavo per tagliare il pannello in larghezza, perché ho detto, almeno seguo la venatura. E mi stavo facendo aiutare da lui. Poi ci teniamo il carrellino, poi ci siamo tutto, stiamo per fare il taglio. E poi mi sono accorto che la mia parete è 160, il pannello è 125. Quindi anche a volerlo tagliare rispettando la venatura, di fatto non vado a coprire la larghezza. Io non posso fare una giunta, perché quello è quello che mi dà struttura al tutto, gli orizzontali. Quindi non se ne parla. Lì salterà la venatura e vabbè, non c'è problema. Qua la venatura sarà nell'altro senso. Ma non è un problema. Siamo orizzontali con la venatura in orizzontale, verticali con la venatura in verticale. Quindi non stoccherò neanche il nuovo pannello, userò quello. Non mi sono fatto neanche aiutare da Gianluca, perché quello riesco a tagliarlo anch'io. Quindi poco mi assicuro che non arrivo all'obiettivo neanche oggi. Non riesco a mettere sulla parete, anche sì, sono le tre e mezza. Figuriamoci, devo fresare tutta quella roba. Taglio subito il pannello e mi metto a fresare. Di corsa, sparo un battuta, perché devo veramente fare tante tante fresate. Non penso userò il banco, fresa, perché sono lunghe e non voglio fare una dima per tutto. Potrei... non lo so, adesso vedo. Dai, taglio i pannelli. Lo portiamo a casa? Dai che lo portiamo a casa, sta venendo bene però. Dove raccomparmi delle cuffie, almeno per quando uso la fresa. Allora... Eccoli qua. Tutti belli fresati. La forma è ovviamente venuta più ficcante, come avevo detto, per via dello stondo. Questo è quello speciale sopra, che ha una misura diversa. Ho preferito tagliarlo dopo, tanto devo rifilare il pannello. E quello è già su. È già uno, l'unico che ho tagliato a larghezza. L'unico in posizione. Allora, io non so se è un problema delle immagini, se è un problema del fatto di vederlo così, se è un problema che è complesso, o se è un problema del vostro cosciente intellettivo. Però in tre mi avete fatto una domanda che mi fa capire che non avete capito assolutamente nulla. Cioè, in realtà le domande sono due, ma la risposta è la stessa. Non avete capito nulla. Vengono fatte due domande. La prima domanda è se non c'è il rischio che una volta messa dentro la cassetta scivoli in qualche modo indietro e quindi quando poi si sollevi la parete batta contro. No, non è possibile. C'è il fermo. Tutto sto incastro funziona solamente perché sotto batte e sopra aggancia. Sotto batte e sopra aggancia. Ci hanno capito? L'altra domanda è più o meno simile. Non puoi girare tutto il pannello così così almeno davanti non avresti quel gioco lì, ma tutta una roba liscia normale. No! Perché l'allineamento funziona solo se sopra batte no, sotto batte e sopra aggancia. Quindi, no, non posso farle scorrere in fondo non possono andare in fondo non si possono muovere così funziona. Chi invece mi ha proposto di fare tutto il grigliato davanti non riprodurrò il pannello intero davanti aggiungendo anche questi pezzi qua primo perché non servono assolutamente a niente spericherei un sacco di domine non danno più struttura neanche a pagare per niente. E inoltre rinuncerei a una cosa importantissima a livello di design che è il movimento per così dare un po' di movimento per fondare con le ombre che si creano qua queste ombre qua che si creano diventerebbe una roba piatta perderebbe tantissimo mentre così secondo me funziona la grande. Ora, quello che c'è da fare è portare queste misure e carteggiarle tutte e poi fissarle. Per fissarle farò semplicemente così siccome se devo usare i morsetti che ho non ci arrivo cioè sono quattro per ogni cosa cioè non me la caverò mai più a fissarle con i morsetti mi ci vuole tutta la vita farò semplicemente così colla e chiodini senza testa che tengono fermo fin tanto che la colla è incollata poi una volta che la colla sarà asciutta quando inizierò a lavorare sul retro per fare l'abbranco alla parete metterò le viti semplicemente viti a vista non so se una al centro o di più di una vedrò e farò i conti così colla e viti sono sicuro che sta assieme di colla qua ce ne vuole parecchia ad ogni modo la modifica che stavo pensando di fare di prima che vi ho detto è questa queste sono le otto strisce e coprono tutto tranne quella finale io più lo vedo così adesso non fila con la francicletta in alto perché quelli sotto sono in abbondanza ma più lo vedo così più sarebbe bello se quello fosse fino a là tanto io fino a questa cassetta arrivo tranquillamente con le mani quell'altra posso mettere tutto ciò che prendo meno e c'è roba che prendo praticamente mai che vorrebbe dire fare sotto una fascia più alta per questo non le ho ancora tagliati vuol dire intaccare il secondo pannello ma me ne sbatto anche e fare una fascia più alta e farlo arrivare esattamente fino alla seconda francicletta questo però vuol dire per i conti che abbiamo fatto l'altro giorno che adesso il pannello dopo da sopra aggetterà non più di 60 ma di 120 in realtà un po' meno però la parte in aggetto quando lo alzo cioè praticamente mai è a 120 però una volta che è giù quindi la maggior parte delle volte si vedrà molto più completo e molto più sensato ora penso proprio che andrò verso questa strada farò questa prova perché perché voglio fare questa prova perché ho tutta la possibilità di vedere se aggetta e sbacchetta troppo ma per il sistema che ho pensato del fissaggio non dovrebbe tutto semplicemente torno indietro senza dover smontare niente ranco via tutta la striscia in basso alla misura che ho pensato ora e tutto torna più in basso all'altezza giusta se invece dovesse funzionare bene tanta roba ve lo tengo così non ho ancora moltissimo tempo vedo di dare una carteggiata a sta roba qua e magari già fissarla ma devo mettermi per terra per fissarla ciao ok direi che a parte portare a misura l'ultimo listello ma posso farlo anche dopo e tagliare quello sotto in funzione della misura finale tanto andrà accorciato anche destra a sinistra io potrei potrei incollare e potrei anche groppinare o potrei andare a farmi l'aperitivo a cui mi hanno invitato non lo so perché questo lavoro qua secondo me tra incollaggio e il resto richiede ancora tre quarti d'ora un'ora tre quarti d'ora fra l'altro continuate tutti a rompermi le palle che sulla scatoletta che sto usando di prova c'è scritto incenso ci tengo gli incensi sono un po frecchettone mi piacciono gli incensi che problema c'è ho sempre acceso gli incensi in casa prima dell'arrivo di Anna che non sopporta gli incensi quindi si usavo gli incensi ho una scatoletta per incensi è una di quelle leggere che va in alto sono fortemente indeciso se finire andare avanti incollare o andare a bere niente come nella migliore tradizione ha trionfato il bere quindi no siccome questo è un lavoro da fare con un po' attenzione perché se sbaglio a incollare quella anziché lineate sotto sopra sbaglio quella sopra sbaglio quella sotto mando tutto a cozze è il lavoro perfetto per la mezz'ora che ho domani perché domani ho la mezzagiornata che ho domani perché domani ho solo la mattina per stare qua in lab e fare questo lavoro quindi rimandato a domani vi faccio però vedere una roba perché mi avete stressato l'anima cioè non ho più l'anima da tanto mi avete rotto mi avete chiesto in 40.000 se sono sicuro che si tolga una cassetta sotto una volta che ce n'è una sopra io la prova l'avevo già fatta a banco solo che non ve l'ho fatta vedere non posso farvi vedere tutto se vi faccio vedere tutto tutto le storie non sono 500 mila sono 500 miliardi quindi non c'è problema nel togliere la cassetta perché il movimento angolare è inferiore a quello che è lo spazio per questo ho alzato il pannello quindi direi che nella mezzagiornata di domani mattina finiamo questo lo incollo lo fisso non con le viti che le metterò successivamente lo portiamo misura in altezza lo portiamo a misura in basso in base proviamo a fare il fatto che i fili sopra con la francesca e poi vedremo il movimento così poi l'altra cosa che manca motore a parte motore che sono sicuro arriverà domani pomeriggio quando io non ci sono non motore scusate tutti i pezzi per il motore sono sicuro possiamo studiare tutto il sistema di binario meglio più che studiarlo ve lo spiego perché io ho già deciso qual è che si può fare per me funziona sono ancora inclinate verso il basso perché non c'è dietro lo spessore però funzica ci vediamo domani buongiorno ragazzi allora oggi rapidissimi perché ho quattro ore e basta giornata monca e mezza e l'obiettivo è finire la parete finire il pannello non è che domani io posso occuparmi dello scorrimento così poi ci siamo pomeriggio dovrebbe arrivare anche tutto il resto che serve per abbrancare il motore ovviamente salterò la consegna perché non posso fare niente quindi colla groppini così poi asciuga la colla metterò le viti non è un lavoro granché di concetto devo semplicemente incollare la roba tutto qua questo è quello che devo fare oggi vi faccio vedere una cosa che ho fatto ieri mentre fresavo queste mi piace mi piace bomba ragazzi è andata assieme come niente tutto perfettamente a registro tutti allineati come si deve una quantità di colla in mano fra l'altro per la prima volta ecco se non lo appoggiavo lì sarebbe stato meglio per la prima volta ho usato il rullo lo stesso rullo che uso per schiacciare l'impiallacciatura il bordo quando quando bordo ed è stato molto molto più comodo sì non bisogna mettere una quantità assurda se non il rullo si incasta e non scorre bene però ci sta ora quello da fare è prima di portarla a misura in altezza in larghezza non la porterò a misura fino a quando non sarà il momento di fare l'instradamento dei binari per sicurezza in altezza invece va portata a misura così eliminiamo anche l'effetto cancello cancello l'effetto ponte levatoio il cancello dei ponti levatoi non so perché ci avete visto il cancello dei ponti levatoi ci avete visto il quadro svedese e nessuno ci ha visto l'ossario del cimitero beh meglio così che non ci vedete l'ossario allora per portarlo a misura in altezza gli step sono due primo girarlo rifilare questo con la sega d'affondamento perché non mi ci sta sul banco e devo farlo da terra come i vecchi tempi quando non avevo il banco da guerra nel vecchio lab poi prendere bene la misura perché alla fine ho deciso di provare a farlo alto come tutte le frenciclite così che si impacchetti quelle in alto saranno un po meno raggiungibili ma basta mettere tipo gli incensi che non li uso mai tanto devo metterle più leggere poi prendere la misura del sotto tagliare un pannello e fare la parte sotto che sarà a fascione quindi la parte sotto non filerà più quello zoccolino sarà un po più alta poco mi importa perché vincerà tanto l'impacchettamento di tutto poi invece ai lati ci pensiamo domani quando è il momento di fare lo scorrimento scorrimento per cui mi devo procurare una quantità di pezzi immonda e devo capire quando al tempo quindi lo giro e andiamo di questo taglio che sbaglio ora farò tutto storto no dai mi tocco grazie a tutti citazione allora tutto è a posto tutte su molto meglio che fila la pacchetto immaginatelo quando ci saranno sulla tutte le cassette che filano esattamente con tutta la parte alta quanto sarà bello e completo sotto c'è un bello zoccolone e c'è un problema di bolla nel senso ora il pannello in bolla e non tocca il pavimento quindi sono stato a fare tutto lo squadro del lavoro è in realtà poi adesso il pavimento dovrò tagliarlo storto per futuro sono stato abbondante sopra non il pavimento dovrò tagliare storto sotto poi comunque aggiungerò una guarnizione perché tanto il fine corsa farà appoggiare ma sotto ci sarà una guarnizione destra e sinistra ancora da rifilare in base a come farò gli agganci per tenerla parete allora io la vedo già finita con tutte le cassette dentro e farà un figurone secondo me l'impatto di questa parete sarà bellissimo ne gioverà tantissimo la parete quando quelle saranno tutte tutte dentro fra l'altro sporgeranno anche meno di prima quindi staranno ancora meglio perché sono leggermente rientrate sporgeranno un po più di adesso foto è arrivato un pacco sono andati due pacchi ma io non aspettavo questi due pacchi cioè manca l'avvolgibile quindi ho sbagliato l'ordine poi è arrivata altra roba adesso guardo che roba è dicevo dal muro sporgerà un po di più perché per il sistema di fissaggio adesso vi spiego come voglio fare il sistema di scorrimento così poi dite tutto quello che dovete dire mentre io non ci sono e non ci penso più e non vi sento e poi quando torno lo faccio tanto io mi procuro la roba lo stesso nel frattempo in sostanza quello che ho intenzione di fare è questo vediamo se riesco a spiegarvelo all'incrocio di ogni orizzontale verticale a tutti gli incroci c'è dietro una ruota sferica probabilmente di quelle da incassare avete presente quei piedini a ruota sferici che scorrono in tutte le direzioni ecco dietro ogni ogni incrocio anche qua dove non appoggia sul niente perché tanto quando scorre va appoggiare sulla parete poi da questo lato invece c'è una questo qua è uno scarto quindi niente misure giuste proprio uno scarto una battuta così dove da questo lato ci sono delle altre cose sferiche un tot di cose di ruote grilli sferiche tenendo qua questo affare qua così vediamo la misura ripeto non è quella giusta non so se deve venire fino al montante come deve venire morale è una l fissata a muro lì e lì non una c perché per mettere una c dovrei metterla prima della parete poi la parete andare ben filata dall'alto quella l l deve andare da sotto fino purtroppo sopra 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 non si può fermare lì altrimenti quando vado su mi sguiscia via quella l lì ha il compito di tenere tutto bene attaccato alla parete dato che la parete avrà ruote dietro e qua saranno le ruote sarà morsicata tra due ruote che permetteranno di scorrere perché metto le ruote dietro qua e non su qua nella parte davanti perché non voglio che quando viene fuori la parete si veda le ruote devono star dentro tanto scorreranno comunque su quei pezzi lì al massimo devo montare dei verticali da nascondere così può andare su e può tornare giù quando è giù quando è su e scende giù gli danni stradamento quando invece va giù ed rimane giù quella permette che non cada per così una volta che saranno quelle lunghe lunghe tutte fino a su io porterò davanti a quelle lì la campitura della boiserie per il suo pezzettino e le viti che abbrancano così che otticamente sarà che dovrebbe fare che non c'è niente fa una sorta di effetto ottico per quelli riportano davanti la boiserie è un vedo non vedo per me è sufficientemente nascoste le guide così non ho intenzione di fresare il muro intenzione di fare qualcosa nascosto dietro l'ho già pensate tutte tenere morsicato il pannello quando è giù e tenerlo morsicato quando è su che gli dia l'istradamento con delle ruote secondo me la soluzione migliore tutto quello che mi avete proposto voi di fresare qua a mettere delle t-track è tutta roba a struscio una sull'altra e qui voglio il minimo di struscio possibile con quelle ruote lì l'istradamento per così invece sarà dato dalla bolla dal motore che va giù e anche sarà un po abbondante di qua e di là sarà un po di spazio quindi potrà comunque muoversi non so bene dove devo farlo venire perché si deve mascherare il più possibile dicevo idealmente dovrebbero andare alla fine per mascherarsi completamente però non devo neanche dare fastidio alle cassette però contemporaneamente vorrei che nascondessero se possibile nello spazio che coprono la cinghia di trascinamento che sennò sporge nella parte sopra ma anche le ruote e questo lo devo vedere devo anche fare i calcoli a caldezza mettere la cinghia questo è quello che ho deciso di fare questo è come procederò devo procurarmi le ruote che sono tantine devo costruire i binari fare tutti i conti ma è la seconda fase del lavoro la prima fase è finita la parete su secondo me fa un po cagare perché si intravede il dietro il fondo poi non si vedrà mai il fondo perché dall'altra parte c'è il mobile non si vede l'altra stanza io direi che devo andare però voglio vedere cos'è sta roba non lo so ok la consegna dello stesso corriere ma sono due pacchetti completamente diversi uno non me lo aspettavo proprio non me lo aspettavo l'altro non me lo aspettavo adesso primo pacco arriva dalla micro jig che mi manda un set di morsetti mi fa un regalo e mi manda un set di morsetti come quelli che uso si vede che gli sono piaciuti reel in cui li uso praticamente ovunque mi manda quelli corti due di quelli corti e uno di quelli lunghi lunghi che hanno addirittura il fermo per non far cadere sotto e poi questo questo è molto più interessante il pacchetto di tutti i vari inserti da mettere all'interno della fresata per creare tutti i vari jig quindi con questo aumento il parco morsetti e si devono aver visto che ho creato parecchi jig ultimamente perché posso creare ancora più jig adesso quindi grazie micro jig farò tanti jig il secondo invece non era atteso oggi era atteso molto più la era atteso verso il 15 febbraio ma sono contento sia arrivato oggi sono proprio curioso di vedere che schifezza ho comprato è arrivato il componente technics usato e non funzionante da cannibalizzare fra l'altro pesa una barca e mezza per modi da modificare per inserire spotify in realtà non è neanche conciato così male a me importava l'estetica non il funzionamento ok la rotella è un po graffiata ma magari possiamo anche farne a meno tutto il resto è solo coreografico si accende ma non suona a noi in realtà non frega neanche che si accenda però adesso ho la misura esatta dello schermo da prendere pesa veramente tanto ragazzi intanto dentro lo svuotiamo completamente cambieremo l'alimentazione faremo tutto qua ci va lo schermino diventa quello di spotify mi manca da recuperare lo schermino il raspberry che uno di voi ha detto che mi sta inviando e poi anche questo lavoro si può fare ha esattamente la stessa estetica degli altri componenti questo è l'ampli vero che userò è della stessa linea è semplicemente un modello diverso ma lo volevo diverso perché mi serviva un modello con più spazio ho fatto una ricerca infinita su ebay per trovare qualcosa di rotto e non cannibalizzare una roba che è funzionante che mi stava sulle balle ha sicuramente bisogno una pulita non ho bene capito cosa hanno fatto però ha bisogno una pulita anche il cavo d'alimentazione sarebbe interessante riuscire ma si riesce sicuramente a usare l'alimentazione passante per alimentare arduino e lo schermo non arduino scusate raspberry lo schermo e poi le uscite vere per la connessione dell'audio bene finito questo sappiamo esattamente dove andiamo parare ci buttiamo sull'elettronica facciamo quel lavoro lì così un altro piccolo componente del mobile hi fi va assieme io ora scappo a prepararmi che devo andare e se riesco ci vediamo più tardi continuiamo i ragionamenti su questo se no vado se riesco sempre a recuperare il materiale per domani 200 milioni di rotelle a sfere e o più tardi va domani buonasera ragazzi sono stanco come se avessi fatto la parigi dakar a piedi un giorno vi racconto poi cosa sono andato a fare cosa andrò a fare ma per il momento no allora prima di staccare del tutto perché alla fine non non riesco ad andare avanti perché comunque è tardi ho un paio di puntualizzazione una cosa da far vedere e una richiesta una domanda un aiutino primo festeggiamo o più culo che anima è arrivato il corriere ed è arrivato praticamente quando ero a cinque minuti da casa però è stato così compiacente da telefonarmi e dirmi c'è un pacco per lei dove lo ammetto e allora io te lo butto in giardino ma in giardino dove quello di quello col furgone rosso non l'altro dei vicini come l'altra volta e mi ha buttato il pacco ed è arrivato tutto lo corrente per tirare sulla parete da agganciare al motore mamma mia rocco guardate che sberla c'è una differenza enorme al di là del diametro che da 70 invece che da 60 come classico normale nello spessore è praticamente spesso un millimetro è un millimetro quindi già questo qua pesa una barca poi guardate il perno cioè ve lo metto a confronto con quello di una tappa la normale se barrocco si freddi contro il varro vitali una roba tutto in alluminio per cui con questo sono sicuro che sta su e che regge tutto il peso meno male che ho preso quello idoneo quello adatto perché magari quello sarebbe piegato o flesso sotto il peso poi i giunti regolabili i sostegni regolabili da questo lato ci va questo dall'altro ci va il blocco motore in modo da poterlo mettere in bolla come mettere assieme questo e come sollevare soprattutto questo per portarlo fino a sopra agganciarlo ci penso dopo che abbiamo parlato del sistema di scorrimento e questo era quello che devo fare vedere ora la puntualizzazione sul sistema di scorrimento prima io ho letto come ti sono intenzionato a mettere una L e al di là del sistema di scorrimento la L deve venire davanti abbastanza da nascondere la cinghia e in tanti mi avete detto ma la cinghia non va dietro se devi sollevarla ben più alta alla parete sì la cinghia va dietro ma se anche va dietro a un certo punto spunta da sopra il pannello quindi quello lì deve fare il sormonto per nascondere la cinghia nascondere non vuol dire che la cinghia sia sul davanti nascondere nella parte che sporge per quello lì intendevo dire che devo calcolare bene il sormonto peccate sempre di quadrimensionalità ora invece quello che devo chiedere e poi basta mentre fare quello che stavo facendo ho capito che non mi serve mettere tutte quelle ruote davanti e tutte quelle ruote dietro basterebbero solamente sui montanti laterali tanto quello comunque rimane staccato comunque e non serve agevolare lo scorrimento perché tanto le possibilità che tocchi anche con le ruote non avendo un montante centrale davanti sono praticamente nulle però mi avete consigliato una strada molto più intelligente rispetto a ruote davanti e ruote dietro però io non so bene cosa cercare o come recuperarla perché non conosco proprio il tipo di ferramenta allora vi faccio una domanda mi è stato consigliato anziché di mettere ruote davanti e ruote dietro e strozzarlo di mettere dei cuscinetti a sfera praticamente per così cuscinetti a sfera che ovviamente devono essere più grandi dello spessore massimo che io non è che struscino dietro e struscino poi davanti su quello che io vado a mettere mi sono state consigliate da bruno di dare un occhio alle olive da cancello scorrevole allora lui anche già credo essere più o meno come dei cuscinetti a sfera ma in nylon il problema che quando vado su un diametro come quello che serve a me che deve essere superiore a 30 anche di poco tipo 35 diventano molto lunghe e per me non va bene perché se le ho lunghe vuol dire che devo accorciare di più la parete mentre io non le vorrei un cuscinetto tipo questo per esempio va benissimo perché sta qua può scorrere e lo metto direttamente qua deve essere solamente più grande la domanda è o meglio le domande sono due dove recupero dei cuscinetti a sfera che vabbè c'è amazon ci sono tanti siti tanti posti perché alla fine non me ne servono tanti ne potrei mettere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 facciamo che ne metto 10 di qua 10 la fan 20 come si fissa un cuscinetto a sfera so che la domanda sembra essere stupida e banale ma probabilmente lo è ma non ho mai lavorato un cuscinetto a sfera pensi non è che mai preso in mano veramente una parte quelle quando ho smontato il trapano ma basta fissarlo tipo così cioè con un dado delle ronde mettiamo che questo sia libero non sia incastrato nel perno c'è un dato da una parte rondele dall'altra che lo stacca poi lui scorre perché se trovassi delle cuscinette a sfera e quest'idea si rivela valida e in teoria lo è perché mi lascia lo spazio per la cinghia dietro possano andare su in tutta la sua sede e si infila io potrei pensare anche di qua di fare delle fresate per ospitare il cuscinetto in modo tale che tutto sta contro in più c'è anche una canalizzazione giusto per non mettere le guide a c che poi mi dovrei ingegnare come fissare senza calare questa dall'alto questa è un po la strada migliore secondo me rispetto alla mia idea un po più barbara di mettere tutte le rotelle davanti e rotelle dietro dei cuscinetti a sfera perché mi dà l'idea che il cuscinetto a sfera rispetto alle ruote davanti e dietro mi dia il valore aggiunto di più scorrevolezza più silenziosità che vabbè tanto poi il motore farà comunque casino ma soprattutto la possibilità più comodamente di dare un instradamento al pannello in modo che salga e scenda questa è un po l'idea poi come fare invece su tutta la parte di tiraggio con le carroccole su e tutto lì ho un'idea ma ne parliamo quando arriviamo al momento a questo punto domani non so perché non ho recuperato le rotelle quelle sferiche perché mi sono fermato dopo questo suggerimento come siamo un'idea decisamente migliore ma vorrei capire dove recuperarle come perché tipo tecnomat non vende cuscinetti a sfera neanche hobby e neanche l'eroe e anche se li vendesse poi come li fisso non lo so ci penso magari ci pensate anche voi ci vediamo domani vado a morire sul divano ragazzi siete tassonomici è palese che io non intendessi e adesso lo smontato che io non intendessi il cuscinetto che striscia sia davanti che dietro se no è normale che non possa girare avrei fatto a strisciare solamente dietro sporgendo ma più arretrato oppure come ha suggerito qualcuno metterne due due più piccoline a coppie uno che gira sul davanti e sul dietro era palese tassonomici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.